Il significato della frase che migliora il mio benessere è legata al fatto che allenando i miei colori riesco a ottimizzare sicuramente i tempi e i risultati del mio allenamento il che oltre a mantenere chiaramente la forma fisica fa sì che di conseguenza anche quella psichica e mentale sicuramente mi benefici di tutto il mio corpo nel complesso. Ma tu ti sei sempre allenato? Sì, sono sempre allenato. Che differenza trovi dall'elenarti con questo metodo scientifico e quindi con la telemetria cardiaca rispetto a prima che magari ti allenavi libero senza nessun dispositivo? Beh, come detto è sicuramente il fatto di ottimizzare i tempi e i risultati, quindi ora in un tempo molto più ristretto, quindi io difficilmente riesco a ritagliarmi più di un'ora, riesco a ottenere risultati molto più importanti eventualmente dal punto di vista dei risultati fisici appunto e del benessere proprio in senso lato. Quindi sicuramente diciamo che riesco a concentrare meno tempo. E dal punto di vista estetico è cambiato niente? Sì, è cambiato perché sicuramente ho un corpo più tonico, sicuramente riesco a mantenermi più in forma, sebbene abbia un regime alimentare chiaramente normale, controllato, ma che non deve essere per forza totalmente restrittivo anche per nulla. Lo consiglio ovviamente. Per quale motivo principalmente? Perché? Per lo stare bene, perché riesce con poco tempo che tutti si è a disposizione sicuramente a stare meglio da tutti i punti di vista.